Ciao ragazzi, in questo tutorial impariamo ad inserire e gestire al meglio i grafici a dispersione ed i grafici a bolle, analizzando alcune situazioni in cui tali tipi di grafico sono i più adatti a rappresentare i dati a nostra disposizione. Vi ricordo che, per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle opzioni e delle tecniche relative alla gestione di un grafico, ho pubblicato un tutorial, il numero 24 di questa playlist, di cui vi riporto il link in descrizione. Iniziamo! Un grafico a dispersione, da non confondere con il grafico a linee di Excel, è un grafico cartesiano, cioè un grafico di questo tipo. Presenta due assi di valori, un'asse orizzontale, l'asse X, ed un'asse verticale, l'asse Y. In caso di necessità, come vedremo, è possibile inserire anche un asse secondario, qui alla destra del grafico. Solitamente, il grafico a dispersione viene utilizzato quando si vogliono confrontare fra loro valori numerici presenti in almeno due colonne, oppure due righe, del foglio di lavoro. I dati da analizzare vengono combinati in modo da ottenere dei punti sul piano cartesiano. In un grafico a dispersione, come vedremo, è possibile modificare, oltre alla scala dell'asse verticale, anche la scala dell'asse orizzontale. È possibile, inoltre, utilizzare la scala logaritmica su uno o su entrambi gli assi, inserire linee di tendenza di vario tipo, e conoscere il valore di R², che ci dà informazioni sul grado di correlazione fra le variabili. I grafici a dispersione permettono dunque di illustrare le relazioni esistenti tra due o più serie di dati. Una serie di dati è indipendente dalle altre, mentre le altre serie possono dipendere o meno dalla prima. Vediamo ora alcuni esempi. In questo primo esercizio ho costruito una tabella XY in cui i valori della X sono puramente casuali e per la precisione sono numeri interi compresi fra 1 e 20, mentre i valori della Y sono ottenuti dal corrispondente valore della X sommandogli i valori 1, 0 oppure meno 1. Le due variabili, dunque, hanno un certo grado di correlazione, che poi analizzeremo. Per inserire un grafico a dispersione si procede come al solito. Si selezionano i dati, comprese le intestazioni di colonna, si clicca su Inserisci e nel gruppo Grafici si seleziona Grafico a dispersione. Come si può notare dalle opzioni che il software ci mette a disposizione, esistono vari tipi di grafico a dispersione, in molti dei quali gli indicatori sono collegati da linee e in alcuni di essi gli indicatori non sono visualizzati. Come si può notare, quando il cursore passa su questi pulsanti, vengono visualizzate sul grafico le anteprime del risultato. Per il momento, selezioniamo il grafico a dispersione standard. In seguito, il grafico può essere formattato con le tecniche già viste nei video precedenti. Vi faccio ora notare che un grafico a dispersione può essere inserito anche a partire da due serie di dati disposti su due o più linee, anziché due o più colonne. Cliccando sul pulsante e selezionando Grafico a dispersione, otteniamo il grafico già visto in precedenza. E sappiamo che con la maggior parte dei tipi di grafico, questa cosa non è fattibile. Eliminiamo ora i due grafici creati e concentriamoci su quello già formatato in precedenza. Una volta che il grafico è stato inserito, si può cliccare su di esso e poi cliccare su questo più che compare qui in alto a destra. In questo modo, possiamo inserire i titoli degli assi, eventualmente se non occupano troppo spazio le etichette dati, e cliccando su queste frecce, regolare altri parametri che il software ci mette a disposizione. È possibile inoltre togliere o aggiungere la leggenda, in questo caso la togliamo, ed aggiungere linee di tendenza, linee importantissime perché ci fanno capire l'andamento dei dati e l'eventuale correlazione tra di essi. Le linee possono essere di vario tipo. Per il momento soffermiamoci sull'opzione Lineari. Modifichiamo ora i titoli degli assi e facciamo doppio clic sulla linea di tendenza. Immediatamente ci si apre questa wizard a destra, che ci permette di selezionare il tipo di linea di tendenza e di visualizzare l'equazione della linea di tendenza sul grafico e anche il valore di r quadrato sul grafico. Possiamo così notare, osservando il valore di r quadro molto prossimo a 1, che le due variabili hanno un alto grado di correlazione. Vi ricordo, come già detto in un video precedente, che quando r quadro è uguale a 1, le variabili sono perfettamente correlate, mentre quando r quadro vale 0, le variabili sono totalmente scorrelate. Analizziamo ora un secondo esempio. In questo secondo esempio ho rappresentato tre serie di dati. La prima serie, quella delle x, contiene numeri casuali tra 1 e 20. La seconda serie, quella delle y, dipende dalla prima e i numeri in essa contenuti variano al massimo di una unità rispetto ai valori della x corrispondente. La terza serie, invece, quella delle z, è formata da numeri casuali tra 1 e 200 e dunque è totalmente scorrelata dalla serie x e contiene valori molto più elevati. Per questo motivo, è opportuno utilizzare per la variabile z un secondo asse qui alla destra del grafico. Per poterlo inserire, è sufficiente far doppio clic su un punto della serie z, questo arancio, e automaticamente qui a destra si apre questa wizard oppure, se è già aperta, si dispone su quest'ultimo pulsante in modo da selezionare l'asse secondario. Vi faccio notare che selezionando asse principale, la serie z, in arancione, contiene valori molto elevati rispetto alla serie y e dunque i valori della serie y restano schiacciati qui al basso, rendendo il grafico della serie y poco leggibile. Dunque, è meglio impostare un asse secondario. Come si può notare osservando i valori di r quadro sul grafico, il valore di r quadro relativo alla serie y, che ho ottenuto cliccando due volte sulla linea di tendenza y e selezionando l'opzione qui in basso come già descritto in precedenza, è molto vicino a 1 e dunque le variabili x e y sono ben correlate, mentre il valore di r quadro relativo alla serie z è molto prossimo a 0 e infatti, come avevamo detto, le serie x e z non avevano nulla in comune poiché erano formate da numeri casuali rispettivamente fra 1 e 20, la x, e fra 1 e 200, la z. Passiamo ora ad un terzo esempio in cui vi mostro come si può inserire una scala logaritmica. Spesso, in ambito scientifico, abbiamo a che fare con scale di valori molto ampie, in cui alcuni valori di una serie sono addirittura miliardi di volte più grandi rispetto ad altri valori della stessa serie. In questo caso, quando si vogliono rappresentare graficamente i dati, è vantaggioso utilizzare la scala logaritmica, poiché mantiene abbastanza distanziati i valori piccoli, mentre avvicina i dati grandi. Anche se l'utilizzo dei logaritmi e delle scale logaritmiche ci sembra molto lontano dalla nostra quotidianità, spesso abbiamo a che fare con i logaritmi, anche senza accorgercene. Ad esempio, i decibel, che misurano l'intensità sonora percepita, sono dei logaritmi. La scala Richter, di misurazione dell'intensità di un terremoto, è una scala logaritmica. E anche la magnitudine stellare, cioè la scala con cui si definisce la luminosità delle stelle, è una scala logaritmica. Nell'esempio che vi propongo ora, ho inserito nella colonna X le potenze del numero 10 e nella colonna a destra i relativi logaritmi, utilizzando la funzione LOG. Il logaritmo non è altro che l'esponente da mettere al 10 per ottenere il numero qui a sinistra, ad esempio 10.000 è un 10 alla quarta. Come si può notare, il grafico inserito qui a destra è praticamente illegibile. Dobbiamo dunque modificare le scale in modo da distanziare, almeno in orizzontale, questi valori che sembrano tutti di ascissa uguale a zero. Inseriamo ora la scala logaritmica sull'asse X. Clicchiamo due volte sull'asse X, facendo comparire la wizard qui a destra, e selezioniamo Scala logaritmica. Come si può notare, sull'asse X i valori vanno da un minimo di 1 a un massimo di 10 alla dodicesima, cioè di mille miliardi. Per avere un po' più di etichette sull'asse X, impostiamo qui il valore dell'unità principale a 10 alla 1. In questo modo, sull'asse X compaiono i valori 10 elevato alla 0, cioè 1, 10 elevato alla 1, cioè 10, 100, 1000, 10.000, e così via. Se vogliamo, poi, in aggiunta, possiamo impostare la scala logaritmica anche sull'asse Y. In questo modo, clicchiamo due volte sull'asse Y e selezioniamo di nuovo Scala logaritmica. In questo modo, anche i valori dell'asse Y, come si può notare, seguono una scala logaritmica e dunque seguono l'andamento 10 alla 0, cioè 1, 10 alla 1, 10 alla 2, e così via. Analizziamo ora brevemente alcuni casi concreti. Dopo aver raccolto i dati relativi all'altezza e dal peso di alcuni ragazzi, possiamo rappresentarli utilizzando un grafico dispersione in modo da cercare di capire se l'altezza ed il peso di un individuo sono due grandezze tra loro correlate oppure meno. Una volta inserito e formattato il grafico, ci accorgiamo che i dati sono addensati tutti qua a destra in alto. Possiamo dunque migliorare la nostra rappresentazione grafica modificando le scale. Notiamo che le altezze sono tutte comprese tra 1,50 m e 2 metri. Clicchiamo dunque due volte sull'asse delle altezze e modifichiamo alcuni parametri. Impostiamo il minimo a 1,50 m e il massimo a 200, cioè 2 metri. Per quanto riguarda il peso, possiamo invece notare che i dati raccolti sono compresi tra 45 kg e 90 kg. Facciamo quindi doppio clic sull'asse dei pesi ed impostiamo il minimo a 45 ed il massimo a 90. In questo modo, i dati sono distribuiti meglio sul grafico, che risulta molto più leggibile. Possiamo dunque inserire la linea di tendenza, cliccare due volte su di essa, ed inserire l'equazione sul grafico ed il valore di r quadro, che come possiamo notare, è abbastanza vicino ad 1 e dunque peso ed altezza di una persona sono abbastanza correlati. Vi voglio ora mostrare altri esempi in cui è utile rappresentare i dati mediante grafici a dispersione. In questo secondo esempio, sono stati rilevati la statura e la circonferenza toracica di alcuni militari. Anche in questo esercizio, ho dovuto modificare il range dei valori sia sull'asse della statura che sull'asse della circonferenza toracica e osservando il valore di r quadro, ho notato che le due grandezze sono molto correlate. Infine, in quest'ultimo esempio, ho analizzato l'andamento del prodotto interno lordo italiano dall'anno 1995 all'anno 2014. Vediamo ora come si può fare una previsione sui dati futuri utilizzando il grafico dispersione. Innanzitutto, inseriamo una linea di tendenza e clicchiamo due volte su di essa. Si può notare che l'approssimazione lineare non è molto soddisfacente. Utilizziamo dunque ad esempio una approssimazione polinomiale di grado 2 e magari, alzando il grado del polinomio, magari fino al massimo valore che è 6, possiamo ottenere un'approssimazione sempre migliore. A questo punto, possiamo fare una previsione sui 3 anni futuri impostando il valore previsione futura al valore 3. Premendo invio, otteniamo la previsione desiderata che non sembra molto realistica. Abbassiamo magari il grado del polinomio, facciamolo tornare 2 per avere un altro tipo di previsione. Se volessimo invece estrapolare i valori del prodotto interno lordo anteriori al 1995, potremmo impostare i valori della previsione retrospettiva, ad esempio a 2, in modo da risalire ai valori approssimativi del 1994 e del 1993. Se volete fare un po' di esercizio sui grafici a dispersione, vi invito a cercare dei dati su internet, magari seguendo queste indicazioni per poi analizzarli e calcolare eventualmente il valore di r quadrato. Vediamo ora cos'è, come si inserisce e come si formatta un grafico a bolle. In modo molto simile a un grafico a dispersione, un grafico a bolle aggiunge una terza colonna per specificare le dimensioni delle bolle. In questo grafico ho rappresentato sull'asse X il numero dei residenti di ogni provincia della Lombardia. Sull'asse Y la superficie in chilometri quadrati sempre di ogni provincia della Lombardia e la grandezza di ogni bolla rappresenta il numero dei comuni presenti in ogni provincia. Ho voluto poi rappresentare con una bolla verde la provincia di Bergamo, che è la provincia con più comuni, con una bolla gialla la provincia di Brescia, che è la provincia con la superficie più ampia, e con una bolla rossa la provincia di Milano, che è la provincia con più residenti. Per colorare una singola bolla vi ricordo che è sufficiente cliccare una volta sulla bolla, cliccare un'altra volta, e poi selezionare un qualunque colore, o qui dalla scheda Home, oppure dalla Wizard che si apre qui facendo doppio clic sulla bolla, selezionando questo secchiello e impostando lo riempimento desiderato. Un grafico di questo tipo ci fornisce maggiori informazioni se inseriamo le etichette dei dati. Per farlo, clicchiamo sul più qui in alto e inseriamo Etichette dati. Dopo averlo fatto, clicchiamo due volte su un'etichetta facendo comparire la solita wizard e per inserire nella bolla il numero dei comuni dobbiamo inserire la dimensione delle bolle, togliere il valore Y che rappresenta la superficie ed evitare di inserire anche il valore X che è il numero dei residenti. Inoltre, per inserire il nome della provincia nel grafico possiamo selezionare Valore da celle, Seleziona intervallo e selezionare l'intervallo delle province. Cliccando su OK abbiamo così inserito il nome della provincia ed il numero dei comuni. Vi faccio notare che per ottenere questo effetto, cioè la provincia con sotto il numero dei comuni, ho impostato qui come separatore Nuova riga. Ora, anche se forse avrei dovuto farlo all'inizio, vi do un consiglio utile per inserire un grafico a bolle. Quando inseriamo un grafico a bolle è utile evitare di selezionare le intestazioni di colonna. Questo perché potrebbe accadere quello che vi mostro ora. Seleziono i dati, faccio Inserisci, clicco su Grafico a bolle, magari bolle 3D, ed ottengo un grafico del genere con dei numeri privi di significato sull'asse delle X. Eliminiamo dunque questo grafico e selezioniamo e selezioniamo i dati senza le intestazioni di colonna. Clicchiamo di nuovo su Inserisci, Grafico a bolle, Grafico a bolle 3D. In questo modo abbiamo ottenuto lo stesso grafico che ho ottenuto e formattato io in precedenza e non ci resta altro che modificare le scale degli assi, inserire il nome degli assi, colorare le bolle, formattare opportunamente il grafico ed inserire le etichette dati. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial impareremo ad utilizzare i grafici azionari. Vi aspetto! Ciao!